Rende di più. Buonasera, sono Angelo. Il mio compito è di badare alla sicurezza della famiglia Bianchi. Prima avevo tantissimo da fare e impedire che Luigi infilasse i chiodi nelle prese o che la mamma toccasse quel filo spelato. Ma adesso c'è... Elettrostop S92, l'interruttore differenziale ad alta sensibilità. In caso di pericolo, elettrostop, stop! Stop! Istantaneamente stacca l'elettricità. Volete la sicurezza per la vostra famiglia? Facile! Richiedete Elettrostop a un negozio di articoli elettrici che espone questo marchio. Elettrostop S92. Facile da installare, vi protegge dalle folgorazioni e da tutti i pericoli dell'elettricità. È un prodotto della Elettroconduttore Milano.